Musica Nata nel 2015, la Fondazione Cirulli di Bologna ha come obiettivo la valorizzazione in ambito nazionale e internazionale dell'arte e della cultura visiva italiana del XX secolo. La sua caratteristica è una rilettura dell'eredità culturale dal taglio inedito e multidisciplinare. La nostra fondazione è una fondazione di arte italiana, abbiamo circa 150.000 opere che spaziano dall'arte quadri, pittura, scultura, fotografia, pubblicità, manifesti pubblicitari, arte industriale con gli schemi di architettura. E con questi materiali confezioniamo mostre che esportiamo all'estero, adesso ne abbiamo una aperta a San Paolo del Brasile che si chiama Italian Design of the Post-War, il disegno industriale italiano nel dopoguerra. Voi esponete opere d'arte contestualizzandole attraverso altre opere d'arte oppure altri media? Sì, infatti abbiamo le nostre mostre, affianchiamo il quadro al manifesto pubblicitario, a una ceramica futurista, quindi ricreiamo questa movimentazione per far sì che la mostra non sia sempre noiosa ma che sia accessibile a tutti.